Maria Grazia, Maria Grazia, guardami, a tuoi giochi, stai facendo il video, quanto tempo ti c'è voluto per preparare questa prelibatezza? Io faccio veloce veloce, ecco che cosa significa essere una maestro, fare veloce veloce e farlo bene. Sì, però ci stanno vedi, ci sta la parmellata, ci sono i pezzettini di mandorla tostati nel forno e le cucette degli agumi. E la stiana quasi passiamo. Ma allora dobbiamo solo assaggiare per vedere se è vero. Sì, sì, è vero, è vero. Vai tu che potrai sporciare molto bene. Questa forza è vero.